L'aspettativa è quella di ragionare con gli altri comuni in maniera costruttiva per trovare insieme una soluzione. Pertanto è indispensabile convocare al più presto il coordinamento istituzionale del piano di zona Salerno 8. È determinato il sindaco di Agropoli Adamo Coppola che in risposta all'interrogazione del consigliere Di Filippo nella seduta del question time riguardante lo stato di stallo del piano di zona auspica in una celere risoluzione. Io ho un'aspettativa quella di tentare di ragionare con gli altri comuni in maniera costruttiva per trovare insieme una soluzione. Credo sia necessario però che tutti quanti ci poniamo in una condizione di capire che in realtà il problema c'è e va risolto in maniera rapida e spedita. Secondo noi da tempo noi diciamo insomma che la soluzione è quella della creazione di un'azienda così come la regione Campania peraltro dice che si occupi di questo settore. Non può essere più lasciato al singolo sindaco ma va fatto una cosa più organizzata, più professionale. Insomma la forma delle associazioni tra i comuni secondo me è passata. Va organizzata una struttura operativa H24 che possa rispondere realmente alle esigenze di tutti i comuni dell'ambito perché i problemi nel campo del guida sociale sono molto 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 aumentati quindi bisogna avere gli strumenti più operativi per poter affrontare tanti problemi che tutti i giorni si sussiguano. Forse in passato non c'era necessità di questo strumento perché magari le condizioni economiche e i problemi erano di meno. Oggi i problemi sono aumentati, le condizioni economiche sono peggiorate e quindi serve una struttura organizzativa più funzionale, meglio organizzata, con più soldi perché crediamo che sia il momento insomma di dare la giusta risposta ai più deboli, proprio loro che ne hanno più bisogno e per poter far questo ripeto serve una struttura organizzata. Quindi lasciamo insieme indietro il vecchio strumento che forse per il passato andava bene, quello della forma dell'associazione dei comuni, facciamo un passo in avanti, creiamo un organismo di gestione operativo che possa essere naturalmente al passo con i tempi.